Le elezioni amministrative del 2013 a Camastra, piccolo centro della provincia di Agrigento, sono state condizionate dalla mafia. E questo è il dato di fatto che emerge dal Consiglio dei Ministri, che riunitosi martedì sera ha accolto la proposta del Ministro dell'Interno Marco Minniti deliberando lo scioglimento del Consiglio Comunale del Paese per ingerenze con la criminalità organizzata. Una notizia che per molti con in testa il primo cittadino Angelo Cascià suona come un fulminaccio al sereno, ma che già dal 2016 appariva del tutto prevedibile. La vicenda è legata all'operazione antimafia della squadra mobile di Agrigento Vultur, che nell'estate 2016 azzerò gli assetti della locale famiglia mafiosa. Dal provvedimento firmato dall'allora GIP del Tribunale di Palermo Giuliano Castiglia emergeva fin da subito, grazie all'attività investigativa delle forze dell'ordine, un chiaro tentativo di inquinare le elezioni del Paese da parte della locale famiglia mafiosa. Su queste dinamiche, praticamente fin da subito, questura di Agrigento e Prefettura si erano attivate aprendo un fascicolo che sarebbe poi sfoggiato negli atti di accesso ispettivo al Comune, da parte della commissione nominata dall'allora Prefetto Diomede, che di fatto porta oggi allo scioglimento del Consiglio Comunale e di tutti gli organi eletti democraticamente. Tra le accuse mosse dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo a Rosario Meli, boss indiscusso del Paese, già condannato nel 93 per mafia e oggi sotto processo con altri esponenti ed il figlio per questa vicenda, ci sarebbe anche quella di aver favorito l'elezione del sindaco Angelo Cascià, intimidendo il suo competitor elettorale Gaetano Provenzani, ma anche alcuni aspiranti consiglieri comunali. Per la cronaca, Angelo Cascià stravinse la tornata elettorale del 2013 con il 61% di preferenze. A Camastra, in cui si sarebbe dovuto tornare alle urne a giugno, adesso si attende la nomina di un commissario straordinario che si occuperà di guidare l'amministrazione per i prossimi 18-36 mesi. Chiedere scusa a tutti i camastresi per tutto l'eventuale, non lo so, per quello che potrà succedere a questo Comune, però mi sento di dire ai camastresi che io da parte di questa amministrazione non si è mai minimamente cercato di regare danno a questo ente, anzi si è cercato sempre di custodirlo e di cercare di comunque nella spesa di essere sempre molto oculati e vigilanti.